Questa mattina parliamo di una nuova chicca che il dottor Marseglia ha all'interno del suo studio podologico e più precisamente parliamo del K-Laser. Sì, oggi parleremo di questo nuovo gioellino totalmente made in Italy che siamo riusciti ad ottenere in esclusiva per la città di Crotone. La K-Laser è un'azienda italiana che è riuscita a produrre questo laser molto minimalista, molto versatile che è dotato di quattro lunghezze d'onda da poter utilizzare contestualmente. I precedenti laser avevano una sola lunghezza, quindi si facevano delle terapie molto lunghe. Oggi attraverso questo strumento noi riusciamo a curare problematiche relative alle unghie. Molti pazienti che soffrono di onicomicosi, di unghie distrutte, possono curare la loro problematica senza ricorrere all'utilizzo di farmaci o di terapie troppo invasive, ma con delle metodiche molto rapide, perché parliamo di tempistiche di terapia di 2-3 minuti massimo, con un protocollo massimo di 8 sedute, noi già a distanza di 2 mesi riusciamo ad ottenere un'unghia che si è rigenerata ex novo. Ma non solo, anche le problematiche relative alle verruche. Attraverso la lunghezza d'onda mirata, noi riusciamo a guarire una verruca in 2 massimo 3 sedute, mentre con le terapie classiche che si utilizzavano prima, come gli acidi per dire, avevamo necessità di far venire il paziente molto più spesso, ma ricorrere a 8-9-10 sedute tante volte. Quindi i tempi si sono molto molto ristretti, soprattutto da un punto di vista dei costi. Ecco, oltretutto si parla di terapia indolore. Soprattutto perché il laser è una luce. Quindi questo non è un laser chirurgico, anche perché il podologo oggi in Italia non può fare chirurgia. Per cui è attraverso il calore che noi riusciamo a curare. E con le quattro lunghezze d'onda noi agiamo dalla profondità fino alla superficie. Quindi il laser a livello capillare acquisisce l'ossigeno e lo riporta piano piano in superficie. Quindi noi è come se creassimo un'iperossigenazione della matrice ungueale, che non è altro che quella che determina la ricrescita poi di un'unghia sana. È ovvio che parliamo di ricrescita. Non vuol dire che a distanza di un mese un paziente avrà un'unghia totalmente rigenerato, perché l'unghia per rigenerarsi ha necessità all'incirca di un anno. Ma noteremo un'unghia che dalla matrice sarà cresciuta totalmente sana. Senza dover prendere, magari nel caso della micosi, degli antimicotici per bocca, che spesso sono epatotossici.